Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del nostro telegiornale dedicata alla riconferma dell'architetto Egno Turco a direttore del Museo archeologico regionale di Gela ma con un bacino allargato al comprensorio. Le novità sulla rimodulazione dei musei e delle aree archeologiche in Sicilia infatti coinvolgono anche Gela e il nostro museo che diventa polo museale di Gela e Caltanissetta. Sentiamo quali saranno le novità. Dopo qualche giorno d'attesa è arrivata la definitiva comunicazione da parte della regione siciliana sulla riconferma direttore del Museo archeologico regionale di Gela dell'architetto Egno Turco. La notizia si inneste in un momento in cui è in corso la rimodulazione dei musei e delle aree archeologiche dell'isola. Che cosa cambierà? Ne abbiamo parlato con il direttore che resta alla guida di una delle risorse più preziose di Gela e del suo comprensorio. La regione siciliana ha fatto una riorganizzazione di tutti gli uffici del bene culturale e anche Caltanissetta ha avuto questa modifica. Si tratta un po' sia per quanto riguarda l'assetto organizzativo ma perché è finalizzato al risparmio un po' e a ottimizzare quelli che sono i rapporti istituzionali tra i vari enti. Nello specifico il Museo di Gela viene accorpato col Museo di Caltanissetta appunto facendo questo polo regionale. Ora ancora i decreti non ci sono quindi non possiamo parlare precisamente di come verranno dislocate i servizi e come sarà organizzata la struttura. Però come si immagina la regia sarà qui a Gela avremo noi un'unità operativa a Caltanissetta e quindi ci sarà sicuramente un intreccio tra Gela e Caltanissetta e spero che ci porta solo un apporto migliore e effettivo. I visitatori che verranno al Museo di Gela potranno godere di un biglietto unico con le aree che si possono visitare a Caltanissetta o ancora questo passo non è stato compiuto? Questo ancora è da venire. Caltanissetta è anche una città anche greca perché Sabucina è stata fondata dai geloi che attraverso il fiume Salso sono risaliti fino ad arrivare al guado tra Sabucina e Capodarso. E quindi voglio dire una linea c'è. Questa è una cosa che forse lo sanno solo gli addetti ai lavori, lo dobbiamo far sapere al mondo intero. Poi quando riguarda il biglietto intero è il biglietto unico, questo lo vedremo con il Dipartimento che ci darà sicuramente dei ragguardi. Quali sono i progetti, le idee che intende mettere in campo? I progetti ne abbiamo tanti, tra cui tre che già a prescindere del polo museale, il Museo di Gela sta portando avanti. Uno la ristrutturazione del museo esistente, che si tratta di un progetto con fonte economiche europee, con un PON, che è più di 3 milioni di euro. Quindi nel giro di qualche anno noi avremo la ristrutturazione di questo museo esistente. E poi ci sono altri due progetti, uno sulla valorizzazione di capo soprano e dell'agropolo e uno sul bosco lettore. Questi come progetti che noi già a prescindere di questo polo stavamo portando avanti. Il sindacato autonomo dipendenti della regione siciliana, attraverso il responsabile aggiunto Salvatore Morana, esprime soddisfazione e si congratula con il direttore del nuovo polo museale di Gela e Caltanissetta, Ennio Turco, per il traguardo raggiunto e augura lo stesso un proficuo lavoro. Apre le porte il nuovo pronto soccorso all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Vediamo. Apre le porte il nuovo pronto soccorso all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Da stamattina le prime visite. Una apertura che era già stata annunciata dal manager dell'Asp2 di Caltanissetta, Carmelo Iacono. Oggi, dopo tanti mesi di aspettative, abbiamo aperto il nuovo pronto soccorso, che è un pronto soccorso più centrale, più centrale per l'ospedale, perché è vicino alla radiologia, alla rianimazione, sopra abbiamo l'UTIC. È un pronto soccorso che è ritornato all'origine, si trova in via Palazzi, e l'agenda e l'utente avranno la possibilità di andare più vicino. È più confortevole, è a norma di legge, con le stanze migliori, tutto il climatizzato. Ci sono varie stanze dedicate, come il punto bianco, il codice verde, il giallo, il rosso. Il rosso è più ingrandito, migliore. Ogni stanza ha due postazioni. Per ciò che riguarda il nuovo pronto soccorso e il personale, i sindacati ospedalieri avevano già espresso da un lato soddisfazione, ma dall'altro delusione per la carenza di personale. Il personale finalmente mi ha telefonato stamattina la direzione strategica di Caltanissetta, il direttore generale, stanno prendendo due medici. Voi sapete che attualmente noi abbiamo un personale di sette medici, non si sono riusciti a trovare altri medici. Finalmente due medici li abbiamo trovati. Così faremo in modo che anche di notte ci sia il doppio medico. Attualmente voi sapete che a pronto soccorso di Gera c'è un solo medico che giustamente può fare quello che può fare con tutta l'affluenza. Ora, da come arriveranno questi due rinforzi, faremo il doppio turno con il doppio medico anche di notte. La mattina è anche previsto, è di pomeriggio anche il punto bianco. Nei festivi, sabato e domenica, c'è la possibilità che vengono visti anche i pediatri. Questo è un discorso che ha avuto la nuova direzione strategica di Caltanissetta. Da un anno e mezzo, voi sapete che all'ospedale di Gera, a pronto soccorso, c'è il punto pediatrico nei festivi e nei pre-festivi. Dalle 10 di mattina fino alle 8 di sera. Così non si può affollare più la pediatria. Perché la pediatria prima era affollata dai bambini che arrivavano di fuori. Ricordato questa mattina il ventesimo anniversario della scomparsa del maresciallo gelese di Mè. Vediamo. E' stato ricordato questa mattina il ventesimo anniversario della tragica scomparsa del maresciallo ordinario di Gela, Sebastiano di Mè, medaglia d'oro al valore militare alla memoria. Una santa messa è stata celebrata nella chiesa San Giovanni Evangelista di Macchitella. Al termine, una corona d'alloro è stata deposta sulla tomba del caduto al cimitero monumentale. Ricordiamo oggi la figura del maresciallo Sebastiano di Mè, ucciso vent'anni fa in un conflitto a fuoco con alcuni rapinatori in provincia di Como. Lasciava la giovane moglie, il papà, la mamma e due fratelli. Un uomo, un carabiniere, figlio di questa terra, dall'altro originario di questo quartiere. Noi siamo nella parrocchia dove lui è cresciuto e dove vive tuttora la sua famiglia, nel rione Macchitella di Gela. Una cerimonia sobria, una messa, il ricordo della sua figura e la vicinanza che cerchiamo di mostrare come possiamo alla sua famiglia che vive ogni giorno il dolore della sua assenza. È una giornata indubbiamente importante perché ricordiamo il maresciallo Sebastiano di Mè, caduto nell'adempimento del suo dovere e quindi è un momento particolarmente significativo perché da un lato rende onore a un militare dell'arma accaduto assolvendo il suo compito fino all'estremo sacrificio e dall'altro è un'ulteriore testimonianza di quei valori che da sempre ci guidano e che sono la lotta alla criminalità e la vicinanza alla popolazione. Gli anziani e i soggetti portatori di handicap residenti nel comune di Gela possono presentare istanza per il rilascio delle tessere di libera circolazione dell'azienda siciliana Trasporti relative all'anno 2017. Lo ha reso noto l'assessore comunale Servizi Sociali, Licia Abela. Le domande corredate dalla documentazione prevista devono essere presentate al protocollo generale del comune entro il prossimo 26 agosto. Il modello dell'istanza è disponibile negli uffici del segretariato sociale in Viale Mediterraneo o può essere scaricato online dal sito internet del comune. L'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia, coordinata da Orazio Coccomini, ha sottoscritto con l'ufficio di esecuzione penale esterna di Caltanissetta, Enna, una convenzione che riguarda la giustizia riparativa e l'accoglienza di persone che dopo aver commesso reati sono in esecuzione penale esterna, cioè devono svolgere un'attività socialmente utile in base alle prescrizioni dettate dal Tribunale di Sorveglianza che concede la misura alternativa rispetto al carcere. Si tratta di persone che sono già state condannate e che per vari motivi ad un certo punto del loro percorso riabilitativo vengono coinvolte in attività di questo genere per ristabilire un contatto con la società civile. I soggetti che saranno ammessi a questo beneficio svolgeranno il loro percorso sia presso la sede operativa di Via Falcone di Contrada Brucazzi a Gela che nelle attività esterne dell'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia. Gli uffici di igiene pubblica dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta questa mattina hanno comunicato al comune di Gela il rientro alla norma dei parametri dell'acqua erogata alle utenze di Via Livorno. Il sindaco Domenico Messinese ha così revocato l'ordinanza che vietava l'uso delle risorse idriche dopo che era stata registrata in essa la presenza di batteri. Un'altra soddisfazione per Samuele Di Natale, lo studente gelese che ci ha regalato una bellissima storia e insegnato come anche nelle difficoltà possono essere raggiunti traguardi importanti. Samuele ha ricevuto un riconoscimento a Palazzo di Città. Vediamo. È stato ricevuto ieri nell'aula consigliare del comune di Gela Samuele Di Natale, lo studente autistico che ha conseguito la maturità al liceo delle scienze umane Dante Lighieri con 100 centesimi. A conferire un omaggio al giovane gelese a coronamento dei suoi studi sono stati il sindaco Domenico Messinese, la giunta municipale e il consiglio comunale presieduto da Alessandra Ascia. Il quinquennio di studi che hai brillantemente superato al liceo delle scienze umane Dante Lighieri di Gela sia la strada maestra dei tuoi successi futuri. Le doti che hai mostrato in questa esperienza superando le difficoltà della vita, con il supporto costante della tua famiglia, fanno di te una persona straordinaria che ci dona un messaggio solidale e ci sprona ancora di più a lavorare nel nome dell'assistenza e dell'inclusione sociale. Così è scritto sulla pergamena donata a Samuele. Alle preoccupazioni sollevate dalla famiglia del giovane il sindaco di Gela ha risposto annunciando il completamento dell'iter del progetto dopo di noi da parte dello sportello unico delle attività produttive al comune di Gela. Verrà realizzata una struttura che potenzierà i servizi della sezione gelese dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici che in questi giorni ha festeggiato i suoi primi 40 anni dalla nascita. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela che ha sottolineato come la consapevolezza dell'autismo a Gela non si sia fermata solo al Blue Day del 2 aprile scorso. Torna di competenza comunale il servizio di riscossione relativo alla TOSAP e alle affissioni pubblicitarie. Lo ha reso noto l'assessore al bilancio del comune di Gela Fabrizio Morello. Gli impiegati deputati a ricevere il pubblico sono quelli dell'ufficio Tributi che si trova nella sede centrale di Palazzo di Città al terzo piano. Orario unico di lavoro per le agenzie assicurative di Gela fino al 9 settembre l'utenza sarà ricevuta dalle 9 alle 13. Le agenzie rimarranno chiuse il sabato dal 16 al 19 agosto prossimi, chiusura totale. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Briciole d'amore è l'iniziativa di solidarietà promossa a Gela dal Soroptimist Club con la collaborazione dell'associazione Dives in Misericordia, la Confcommercio e Casa Artigiani del Golfo di Gela. Il progetto prevede di eliminare gli sprechi legati ai prodotti alimentari invenduti che saranno raccolti dai volontari della Divina Misericordia e destinati alle famiglie indigenti di Gela, purtroppo in continua crescita. Sentiamo. Al bando lo spreco si va a recuperare tutto ciò che i commercianti non riescono a vendere nel corso della giornata e prima che l'alimento sia diventi deperibile lo si dona a chi ha bisogno. Questa iniziativa nasce dal desiderio comune di non voler buttare quello che è il cibo invenduto e con Confcommercio, Casa Artigiani e Soroptimist si è pensato di creare questa rete di bene che porterà ad aiutare tante famiglie che sono oggi in difficoltà attraverso il recupero del cibo invenduto per un vantaggio da parte dei commercianti che non dovranno smaltire il cibo come rifiuto e a beneficio delle famiglie che oggi vivono delle grosse difficoltà. Abbiamo voluto fortemente questa cosa perché è importante, è importante per la città, è importante aiutare, ha dei risvolti importanti, per cui speriamo solo, speriamo che possa partire veramente perché questo è solo l'inizio di un lavoro e di un impegno che deve essere poi un po' di tutti. Quindi invitiamo anche tutti quanti i panificatori e quanti ad associarsi a questa iniziativa che ritengo aiuterà tanto la città di Gela. Il problema più grosso come al solito in Italia è la burocrazia perché noi abbiamo i nostri commercianti, operatori, panificatori che hanno voglia di donare l'invenduto però sono le leggi che lo vietano quindi abbiamo trovato un escamotage se così possiamo dire grazie alla piccola casa del volontariato che ci ha permesso di trovare quello strumento burocratico per poter andare a donare l'invenduto. È un'organizzazione che bisogna affrontare di petto perché intanto il messaggio è partire quindi già la sensibilizzazione è stata fatta. Abbiamo già delle micro imprese, i panificatori, i ristoranti e le pezzerie che già hanno capito il tipo di messaggio quindi piano piano si parte con loro. L'istituzione della Casa della Misericordia devo dire che è un'idea assolutamente indispensabile per la città e che si faccia all'interno dell'ex orfanotrofio è perfettamente coerente con lo spirito e con lo statuto dell'ex orfanotrofio che è rivolto a chi ha bisogno e purtroppo chi ha bisogno è in aumento in città. La Casa della Misericordia fa la sua parte per quanto potrà fare. L'amministrazione ovviamente non è in grado di rispondere a bisogni immediati del momento e questo è un ruolo che la Casa della Misericordia ma anche altre chiese devo dire svolgono in modo ingommiabile. L'amministrazione ha il compito invece di creare le condizioni perché questo trend negativo abbia a invertirsi. Il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina presente al lancio del progetto di solidarietà ha approfondito le tematiche intorno alla carità e alla sobria, parsimonia, lo abbiamo sentito. L'Eccellenza, lei nel corso del suo intervento ha parlato moltissimo di sobrietà ma anche di carità. La carità è madre della sobrietà e di tutta una serie di virtù importanti che aiutano a potersi esprimere in maniera sempre più enfatica, più massiccia perché è importante che questi segni si moltiplichino. Però è chiaro che una persona caritatevole deve imparare anzitutto a saper solidarizzare, a saper condividere. Ma chi è capace di fare questo? Soltanto chi ha equilibrio o meglio ancora ha moderazione o come dice un detto latino riguardante proprio la moderazione, la discrezio, il termine discrezio sta proprio ad indicare questa virtù che è capace di saper calibrare bene le proprie risorse nel saperle donare, nel saperle condividere, nel saperle accogliere. Allora io credo che questa iniziativa che si sta per lanciare nella nostra città sia fondamentalmente un esempio del modo come la carità possa generare la sobrietà perché è chiaro tutti siamo caritatevoli perché tutti pensiamo di aiutare gli altri ma poi per fare questo è chiaro che bisogna anche assumere un certo stile di vita. E quindi lo spreco assolutamente bandito è un insulto veramente alle situazioni più drammatiche. Lei ha detto più volte che bisogna saper gestire quel poco che si ha, poco o molto, ma saperlo gestire ed eventualmente anche condividere con gli altri. La maggior parte dei poveri sono persone che purtroppo non hanno avuto nel corso della loro formazione la possibilità di avere accanto delle persone che abbiano insegnato loro il modo come saper gestire il poco che si ha perché diciamolo chiaramente io credo che qui nella nostra città non ci sono ricchi sfondati. Questa iniziativa che è un richiamo a non sprecare in maniera esagerata le cose che abbiamo questo secondo me diventa un bel messaggio perché i giovani in modo particolare ma tutti noi possiamo crescere non solo nella capacità di condividere ma anche nel saper calibrare bene le proprie risorse e saperle gestire come giustamente si dice di con buon senso. Nel contesto dell'itinerario biblico sulle opere di misericordia proposto dal Vicariato di Gele e dal Movimento della Divina Misericordia, domenica 10 luglio prossimo Monsignor Michele Pennisi, già vescovo di Piazza Armerina, tratterà la decima opera di misericordia. L'arcivescovo di Monreale dopo aver visitato la piccola casa della misericordia presiderà alle 19.30 la celebrazione eucaristica e la conferenza nella chiesa del Rosario di Gela. Lo scrittore Gaetano Savatteri, giornalista di media sette autori di romanzi di successo sarà ospite del club Vela Gela oggi alle 21.00 converserà con il sociologo Francesco Pira sulla nuova edizione dei ragazzi di Regalpetra. Il libro è edito da Melampo che racconta la lunga guerra di mafia che agli inizi degli anni 90 insanguinò una parte della Sicilia. Domani, sempre alle 21, altre incontri al club Vela. Si parlerà di canapa industriale e della reintroduzione della cultura in Sicilia. Con l'aiuto dei relatori presenti si cercherà di sgombrare il campo dei pregiudizi e di valutare gli impatti economici e ambientali che il ritorno alla coltivazione della canapa può avere sul territorio. L'evento è realizzato con la collaborazione di Omega Benessere e di David Melfa. La libreria Mondadori di Gela in collaborazione con l'assessorato comunale alla cultura presenta il libro Le contraddizioni del mentre di Ornella Sgroi Appuntamento previsto per domani alle 19.30 all'Eschilo Lab. Converserà con l'autrice e lo scrittore giornalista Maurizio Enicastro. Lettura a cura delle attrici Maria Carla Aldisio e Maria Giannone. I testimoni di Geova in questi giorni hanno avviato una campagna speciale per invitare tutti ai congressi di zona del 2016 che avranno come tema Rimaniamo leali a Geova. L'evento gratuito si terrà da domani a domenica 10 luglio nella sala dell'Assemblea di Caltanissetta in Contrada Casale, località Canicasse. Durante la tre giorni del programma si susseguiranno 49 interventi ognuno dei quali approfondirà il tema della lealtà. Inoltre appositamente per questo evento i testimoni hanno preparato 35 video e due brevi film che saranno proiettati sabato e domenica. Ogni giorno le sessioni mattutine e pomeridiane saranno introdotte da video musicali. E per il teatro proseguono gli appuntamenti con la rassegna Teatro sotto le stelle all'antidoto di Gela. Stasera alle 21.30 è prevista la rappresentazione nabriscola della compagnia teatrale Antidoto. La rassegna si concluderà a settembre. L'ingresso è di 5 euro a coppia. Sabato 30 luglio invece si terrà l'esibizione di Giobbe Covatte. Tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale.